Parco Maolini off limits. Da ieri infatti è stato interdetto l'accesso pedonale nei pressi delle scuole medie con conseguenti inevitabili disagi per il forum, il museo del casalingo, lo shop e soprattutto per il ristorante al parco. Una chiusura che non era stata annunciata e che fa seguito a quelle che ci sono già state negli ultimi mesi, una sempre per il restyling dello stesso ingresso, l'altra invece per il parcheggio con i lavori che erano durati più di un mese ad inizio primavera. Ora nel pieno della stagione estiva con una meteo finalmente favorevole dopo giorni e giorni di pioggia si chiude nuovamente l'ingresso pedonale con giustificata e comprensibile rabbia di chi lavora ed anche il parco giochi ieri sera solitamente pieno di bambini che gioca era desolatamente vuoto. Parallelamente non si può non sottolineare come siano chiusi molto spesso i bagni pubblici della Villa Liberty e che sempre nei pressi di quella che dovrebbe diventare la sede della Pinacoteca Boggiani ci sono rifiuti abbandonati, segno del passaggio di persone maleducate che lasciano sacchetti di plastica, bottiglie di vetro e cartacee.